Avvocato Trocino, non dovevate consegnare le chiavi questa mattina del Palamilone? Che cosa è successo? A noi oggi il Presidente si era recato qui al Palamilone per consegnare le chiavi per come è stato ordinato dal Comune. Mi ha contattato telefonicamente perché ha avuto un malore e attualmente è ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone e sono in corso degli accertamenti sanitari. Questo suo impedimento imprevisto, chiaramente, oggettivo, non voluto e non cercato. E' stato rappresentato al Comune che ha dimostrato tutta la sua sensibilità nel decidere di non rinviare questo appuntamento vitale per la città, cioè la presa del Palamilone, ha rotto i lucchetti ed è entrato. Per cui da oggi in poi la custodia di questa struttura passa nelle mani del Comune di Crotone ci auguriamo che i beni vengano preservati, tutta l'attrezzatura delle società che si trova all'interno venga ben custodita perché diversamente qualcuno sarà chiamato a risponderne. Le sentenze del Tarre non sono state prese in considerazione, quindi parliamo sempre come al solito di legalità? La legalità lo decideranno le autorità giudiziarie competenti che sono state interpellate, lo decideranno le autorità superiori all'ente comunale, ognuno dà un'interpretazione della normativa e il tempo poi darà ragione a chi ragione ha. Purtroppo non ci sarà il commissario, ma ci sarà la politica e quindi eventuali danni o eventuali errori commessi da qualcuno ne risponderà poi l'amministrazione comunale di turno e non già più il commissario che sarà andato via. Passato il mese di agosto finiamo queste vacanze. Il consorzio ha debiti con il Comune? Il consorzio è in una situazione di illegalità, per cui tutto ciò che è stato fatto questa mattina era da prenderlo in considerazione? Guardi, gli atti amministrativi che sono stati portati avanti dall'amministrazione comunale, parliamo dal 2012 fino ad adesso, sono stati legittimati dalle sentenze del Tarre, che ha chiarito che il consorzio possedeva questo bene a pieno titolo. Non mi pare che siano state promosse azioni in danno del consorzio per il recupero di spese. Laddove il Comune dovesse azzardare una siffattazione giudiziaria, chiaramente il consorzio si difenderà per dimostrare che nulla deve a nessuno che ha occupato legittimamente il Palamilone, che ha offerto tanti servizi alla città, ne ha preservato la struttura, che da oggi in avanti speriamo e ci auguriamo non faccia la stessa fine della piscina coni, della piscina olimpionica, della scuola di San Francesco e di tantissime altre strutture pubbliche presenti in questa città e abbandonate al loro destino.